Il popolo delle primarie ha scelto Pierluigi Bersani in tutte le marche, anche laddove, è il caso di Macerate di Ancona, il primo voto dei circoli, cioè dei soli scritti, aveva dato la vittoria a Franceschini, un risultato netto per l'ex ministro con poco più del 50% delle preferenze, seguito da Dario Franceschini con il 35 e una buona affermazione di Ignazio Marino, il 13,8%. Nelle marche hanno votato oltre 80.000 persone, divise in 333 seggi. Per la mozione di Bersani, la migliore affermazione in percentuale ad Ascoli con il 58% delle preferenze, percentuali quasi da plebiscito per il segretario regionale del Partito Democratico, l'ex presidente della provincia di Pesaro Urbino, Palmiro Cchielli, candidato unico e unitario, si sottolinea dal PD, l'84% del voto dei circoli e oltre il 97% nel voto di domenica. Mi dà più forza per costruire una leadership collettiva, io non devo essere un leader solitario. Primo impegno di Ucchielli, rinsaldare il partito, che nella regione e ad Ancona ha perso diversi punti percentuali alle elezioni europee rispetto alle politiche del 2008, poi l'impegno per le regionali. Primo passo, un appello al popolo non votante. Mantenere, rafforzare, allargare la coalizione sia ad altre forze politiche, diciamo anche di area moderata, se c'è una convergenza programmatica, sia soprattutto con tanta gente nelle Marche che magari non è più andata a votare, che è votata in bianco, che è sfiduciata dell'istituzione e dei partiti della politica. noi dobbiamo recuperare.